gara di spegnimento di questi due computer portatili alla vostra sinistra windows 10 64 bit asus f5 56 u 500 hard disk quindi 500 giga 2,30 frequenza del processore gigahertz e 8 giga di memoria ram alla vostra destra windows vista 32 bit ram 640 megabyte un gigahertz di frequenza del processore 40 giga di hard disk è un toshiba sp 6.000 andrò a spegnere entrambi in maniera contemporanea sperando di riuscirci allora posiziono a destra sul toshiba e la di sinistra sul questo quadro al metro e partirò 123 ecco qua ragazzi perfetto vediamo quale di due riuscirà a spegnersi per primo io penso che sia più facile infatti ha vinto la di sfida proprio l'asus quindi windows 10 bene windows vista è arrivato pochi secondi dopo beh vi ringrazio per avervi visto e per aver ascoltato le mie parole ripeto abbiamo davanti a voi un windows 10 64 bit windows vista di 32 bit 8 giga di ram li abbiamo 640 megabyte ram qui abbiamo 500 giga di hard disk li abbiamo soltanto 40 giga di hard disk qui abbiamo un asus f 556 lì abbiamo un toshiba sp 6.000 bene grazie a tutti spero questa di sfida vi sia piaciuta iscrivetevi mi raccomando commentate ciao a tutti